Cari ragazzuoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite, basterà cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare a inserire il mio nome, ovvero Croatomis, nel supporto a un creatore. Una volta accettato, ragazzi, il gioco sarà fatto, quindi grazie a tutti coloro che decideranno di supportarmi. Ah, ragazzuoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. No, più che altro, magari ci sta anche come hanno fatto così adesso, perché effettivamente magari prima premiava troppo chi era aggressivo e pushava, però almeno aumentare un po' lo spawn... Ragazzi, vedete la bocca a Martina, per favore? Ma vabbè, va bene, ma vabbè. Però dare 25 di... Almeno aumentare lo spawn degli shield, capito? Che davvero non se ne trovano, eh? Però per equilibrare al mondo... Ma che vuoi? Urla, urla un po', Martina. Ah, ma non urlo più e basta. Urla, urla. Stavo tenendo un ragionamento tattico. Ma c'è uno col piccone di marshmallow. Vedi, vedi, lamentarsi funziona. Ho trovato due shieldoni e la surpa. Cioè, vedi, è un'altra surpa. Vedi, lamentarsi funziona. Porco demonio. Ma gorgazzo, te dò proprio niente. State zitto, chiedi qua la bocca. Tieni, pupa questi, vai. Ho su due. Oh, no, no, no. Ma mi dai l'SMG, mortacci tu. Spero, l'SMG. Paola, mello. Vai, te lo dati? Tu dici che non ti pensi, io invece ti penso. L'arma nuova è molto carina, ragazzi. Tutto a posto tu, Lily? Un altro shieldone. Guarda, che roba. No, io non ho shield. Perché mi danno una mano? Io devo assiettare tutto quanto, Lily. Scopato uno. Scopato un altro. Mi hanno un culo da la ghina. È morto un altro. È mia. Lily, ti faccio contenta, vieni qua. Thank you. È pronto? Non sei pronto per questa cosa? Ma non parlo tutto! È pronto? Vieni, Lily. La slurpa. Grazie. Thank you so much. Almeno tu sei gentile, a differenza di questo stronzo. Vieni, che c***o. Prima che te slurpa. Come? Come scusami? Le gente qui? Ok, vai andiamoci. Andiamoci sopra. Che percorso? Non so dove te la le tengo. Vabbè, in goppa, proprio in goppe. Vai io. Vai, Martina, mori dai. L'ho attaccata. No, vabbè. Non sono lì. Non è Martina. Ah, scusa, il Martino non tirla. Arrivo. Io sono... Non sono nella m***a, però... È bianco, è bianco, è bianco. Ah, se tu vieni qui, mi puoi anche restare, pecco la gioia. Guardami dietro il tuo cuore. Sono dei pittinoschi in questi, ah. Mi tiro dagli sceldini. Uno sale, uno sale. Aumenti di vita, ragazzi, aiuto. Eh, non possiamo... Brabè. Ma glieletto? Guarda, guarda. Tutti le sticky, ma what? Aiuto, all'altro. 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 No. Vabbè, vabbè. Prendiamo la cartolina, dai. No. Ce l'ho fatta. Questo è un timidino skin, hanno preso la cartolina. Ma quale proposta, ragazzi? Gliel'ho fatta. Due spicchi su due, gliel'ho attaccati. Buono. Non mi ha... Non mi ha... Vado a restare questo buffo, va? Nessuno mi vuole. Nella casa di corso centrale, intendi casa cane, Davy? Dicono che ci sono dei sotterranei qui. Ha bestemmiato. Torna in vita, bamas. Ma c'erano... Hai delle bende per caso lì? Vieni, ma ti faccio un regalo. Non lo scopo a cagliare, a che corre in merito, eh. Vai, ruba, ruba. Hai i cilindini per me? Eh, ehm... No, ok, va bene. Ok, no, va bene. Oh, bisogno di pende. Oh, niente. Ololino, proprio oggi non c'è, non c'è, ragazzi. Che come hai visto che scala hanno fatto questi? Io non so come dove cazzo sparando su stronzo. È sopra, Martina, guarda tutto sopra. Diana. Diana? Eh. Eh, dobbiamo andare in sé, vediamo. Eh, non posso restare a Lily, però. Quindi che non so di dare uno stupido? No. No, non ho detto questo. Che come vieni qua, che come vieni qua. E che vengono là? Che c'è un giotto di vita. Addiamo. È un pad, sì. Padda, papi, dai, padda. Vieni. Non neanche fai le scale, dai. Vai, pende. Non lì, non lì. Non lì, non lì. Prendiamo il gazer. Ti do il medikit. Prendiamo sto gazer e andiamo. Dai, dami. Ah, voglio quel drop. Ti serve, per forza. No, paddano anche loro, mi sa. Cazzo, cazzo. No, c'è un 777. Vado qua sopra, allora. No, ce l'hai qua davanti? Nord, nord? Lascia, 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 lascia lì. Ci serve il drop, quindi. Oh, che banana golusa. Oh, devi da morì. Sì, per il drop. Eh, se vuole morì, quello. C'è la mamma vacca. Che culo. Io ti consiglio di venire da me. Non do come consiglio. Che sennò che me fai? Te lo consiglio che capo io. Vai a 125 HP, quindi vieccia. E devo assolutamente farmare. C'ho la fame, c'ho. Porca troia. C'ho fame. Yes. C'ho fame. Meno male che Kekko c'è. E bel su cecchino, a terra. Ah, quindi sai anche giocare. Ma. Meno male che mani c'è. Ah, ciò dimmi, te lo. Ok, essa uno. Ma dall'auto. Quelli sulla montagna non ha più shield. Buona, tutta è buona. Tutti blu stanno. Tutti i shieldadi stanno, si stronzi. Questi. Blu. White, uno. Non ha più shield. White ancora. Marty, arrivo. Ehi, sono a distanza, quindi non mi sto avvicinando. Blu. Vai, blu. Morto uno. Blu. Sotto. HS. Blu con la sopra. Ma che è, tipo... Ehi, mi sto divertì. Ehi, mi sto divertì. Che dovevo fa? Perché, beh. Blu, non ha più shield. Sono nelle nave che gli ho fatto burro. È un lupo. AKS, è morto. Bravo, bravo. Morto. Vi dai tutti col per, per favore. Vai, morto uno. Sì, dammi, dammi. Brava, brava. Mi ha preso? Ecco. Dov'è? Eh, sono entramme a nord-ovest. Ah, terra. Parissimo. Dov'è cazzo so sbucate ste palle? Ma che cacchio, ne so. Andamocene subito in safe. Ma che foto di nianni, devo mandare. Nincola che sto per danno. Lo so. Il lupo è sotto. l'altro sali nei ground bravissimo e le contro quel di prima tu li vedi a nord no muore ci muore ci muore matti il termico è qualcosa di schifosissimo io con martina non ci gioco più schifo 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 grazie sai che c'è power no si il termico il termico è fortissimo dai grazie grazie grazie